Questa storia racconta come UseGrey, grande azienda indipendente di materiali da costruzione, è riuscita a ottimizzare significativamente il lavoro d'ufficio e a incrementare il grado di soddisfazione dei clienti. Ogni giorno l'azienda effettua dalle 800 alle 900 spedizioni, che partono dai depositi e vengono consegnate nei cantieri della regione. Queste spedizioni sono accompagnate dai relativi documenti che devono essere filmati. Tuttavia, a volte questi documenti di spedizione vengono inviati nel luogo sbagliato o persi nel cantiere. Al momento del pagamento delle fatture, UseGrey riceve telefonate dai clienti che chiedono dettagli sulle consegne. Nonostante i documenti vengono accuratamente archiviati, la loro individuazione e il rispettivo invio tramite fax ai clienti comporta comunque un inutile spreco di tempo. Dato il numero crescente di richieste, possono essere necessari fino a due giorni di tempo per rispondere. Era assolutamente necessario un cambiamento. Kodak Alaris, in collaborazione con un ente addetto all'integrazione di sistemi, ha installato un sistema per cui tutti i documenti di spedizione vengono scansionati nel momento in cui gli automezzi di consegna ritornano al deposito. Grazie a Kodak Capture Pro Software, il codice a barre con il numero dell'ordine ricavato dal documento di spedizione viene letto e apposto sull'ordine corrente. Il risultato è che da ora in poi, nel caso di richiesta di una specifica fattura da parte dei clienti, qualsiasi dipendente può ricercarla nel sistema, fornire una risposta o persino inviare il documento tramite email alle parti interessate con un solo clic del mouse. Abbiamo chiesto conferma UGrey. L'azienda ha ottenuto un ritorno sull'investimento dell'intera soluzione Kodak Alaris in meno di un anno.